il brano di oggi si chiama esurientes e le parole significano ha ricolmato di beni gli affamati una breve frase che viene sviluppata in un trio ecco allora il primo elemento riconosce che in questo brano ci sono tre voci uno strumento e due cantanti che si intrecciano continuamente il secondo elemento è la gioia che viene descritta una gioia piena ma semplice l'essere ricolmati di beni è qualcosa che dà pienezza ma allo stesso tempo è ordinaria nella quotidianità l'ultimo elemento la gioia di questo brano e la serenità ci rimanda un po e ci richiama il natale ormai vicino alla gioia di gesù che sta per nascere buon ascolto la gioia di sicuro Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info